Cos'è la musica? La musica è una forma d'arte, è una forma d'arte universale. Non è necessario che qualcuno traduca ciò che la musica trasmette. Una forma d'arte in cui un artista unisce insieme dei suoni. I suoni trasmettono delle emozioni, delle sensazioni. Bisogna avere la sensibilità per poter far sì che la musica diventi arte. Delle impronte sul muro possono sembrare delle macchie, delle macchie senza significato. Ma se quelle impronte di mani sul muro trasmettono delle emozioni, rappresentano una forma d'arte. La musica trasmette dei messaggi. Il musicista trasmette dei messaggi attraverso i suoni. Ciao al prossimo video vi aspetto Ciao al prossimo video vi aspetto